Di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e per il frutto del tuo seno Gesù. Madre Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e per il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e per il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Maria Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e per il frutto del tuo seno Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto, mi spero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Adesso non avrà un giorno. La vita eterna non è una specie di trattamento di fine rapporto, la liquidazione finale che accumulo con il mio buon comportamento. La vita eterna è già cominciata, è una vita diversa, una vita vera, giusta, piena di cose che meritano di non morire. Una vita come quella di Gesù.